Qui in Nipols, 52-53 Fahrenheit, around 12 Celsius. E questo significa che è quella giornata, sì, veramente, 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 veramente fredda, come in questi giorni, in questo periodo. Però, come sempre, invito sempre a vedere il mio video sul freddo, ho fatto qualche settimana fa, per vedere, scoprire, scoprire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo, perché è impossibile, ma quantomeno di combatterlo. E poi mi chiedevo, sempre su questo fatto del freddo, come fa lei, diciamo, anzi, se anche il fatto che lei utilizzi sempre la camicia nera, oltre ad avere, ovviamente, qualcosa che ha un significato metaforico, eccetera, sì, effettivamente, è un, diciamo, un abbigliamento per lei adatto a non soffrire il freddo, perché, insomma, comunque è una curiosità questa camicia nera, perché, praticamente, la indossa ogni giorno, e quindi vorrei capire, anche se la indossa solo per il video, per il video di report, oppure, in generale, per tutta la giornata, il che mi sembra un po' impossibile. Vista anche l'età, perché, appunto, per la sua età, diciamo, comunque, da tempo mi chiedo il significato in generale, comunque, al di là del freddo, no, di questa camicia nera. Devo dire che, veramente è bello quando si toglie la barba, insomma, è soltanto un'altra cosa, anche se non è con la lametta, ma il volto assume tutta un'altra sembianza. Anche mio fratello dovrebbe fare così, ma lui è un barbone. Purtroppo, anche una mia teoria sulle barbe, insomma, un conto è la barba per chi sa veramente portarla, un conto è chi la porta per tendenza, come la porta, ma in gran parte la maggioranza oggi. Poi c'è una frase di Shakespeare, curiosa, sulla barba, che fa così, chi non ha la barba è meno che un giovane, chi ha la barba è più che un uomo. Ora, è che sono completamente d'accordo, perché voglio dire, per esempio, lei non è che non ha, insomma, non ha la barba a meno che un uomo, così come tutti quelli che non hanno la barba. Quindi sono d'accordo da un lato, secondo me va bene quella barba di pochi giorni, come la porto io, insomma, che dà quel senso leggero di vissuto, ma non comunque la barba appunto dei talebani, o comunque come si porta per tendenza, non perché la si porta veramente per un fatto di essenza che si sente di averla. Spero che a qualcuno piaccia la teoria. Ecco,